Buongiorno, oggi è venerdì 26 giugno, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto attesino, Mohamed Almasmoudi è in regia, ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, giunta, i Verdi salvano Spagnoli, tutti i quotidiani locali dedicano spazio all'occhiata che è ricevuto finalmente dall'esecutivo di Luigi Spagnoli, Pittarelli l'artefice del colpo di scena l'altra sera in consiglio comunale, Pittarelli dice compromesso marcio, ecco perché ho votato contro, la Corte dei Conti indaga, indaga e chiede più chiarezza riguardo Air Alps e Interbrenner con partecipazioni troppo costose, profughi, transiti da considerare, il presidente Compacer a Roma si rivolge a Renzi per dire noi assistiamo anche quelli semplicemente di passaggio. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, Spagnoli, sindaco all'ultimo minuto, ci stanno anche Verdi, maggioranza 24, sacrificato tra virgolette il progetto Benco, profughi, serve una revisione delle quote e poi una notizia tutta da leggere a pagina 33, la speciale maturità di Silvia ha partorito solo un mese fa e adesso sostiene l'esame di maturità, duello in auto, scatta il perdono, l'episodio era accaduto davanti al Cineplex, una gara di automobili tra giovanissimi dopo aver visto un film. La cronaca linguatrisca cura del quotidiano Dolomita nell'apertura interamente dedicata a quello che è accaduto in consiglio comunale nelle ultime 24-48 ore, ci si occupa anche dei altotesini che vivono vicino al confine con l'Austria, altotesini che andavano spesso a fare benzina oltre Brennero, allora la provincia è intervenuta, una serie di agevolazioni per loro, nonostante queste agevolazioni la provincia riesce a fare ancora cassa. La cronaca cura del quotidiano Tagestzeitung, il piccolo terremoto l'altra sera in consiglio comunale con il colpo di scena di Anna Pittarelli e l'intervista a pagina 12 e 13. Chiudiamo con l'assitutore Wirtschaftszeitung, l'economia e non solo niente giunta comunale ma l'apertura è dedicata a come cambierà la sanità altotesina per mano del nuovo direttore generale della ASL Thomas Schell, i suoi obiettivi a breve e medio termine. È tutto, come sempre vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie.